E ragazzi, come va? Io sono Ferinichi Scusa, segretaria? Segretaria Ferinichi? Come ti permetti? Dammi immediatamente un caffè Tantina in testa questo caffè, non ci provare! E ragazzi, come va? Io sono Ferinichi E io sono Stef, e che si giochiamo a GTA V? E siamo tornati nella nostra serie di GTA V Dunque, online, questo è uno degli episodi più importanti in assoluto Perché ci compreremo tutte le cose del SEO Perché Ferinichi diventa una segretaria Non ci provare Io sto facendo un'intro carina, non ci provare a interrompermi Dicevo, con i soldi che Stef ha vinto nella scorsa challenge Quella del nascondino, per chi non se lo ricorda Esattamente, è stata una bella sfida Ce la siamo giocata davvero alla grande Però il magnifico Stef ha vinto Di conseguenza, l'ufficio sarà mio Ferinichi sarà la mia segretaria Slash aiutante, ti chiamerò sempre segretaria Perché è troppo più bello dirti segretaria E quindi... Vuoi morire oggi, vero? Un pochino Quindi quest'oggi ci compriamo l'ufficio E vediamo un pochettino cosa ci permetterà di fare Non so quale ci esce Perché alcuni ci dicevano Prendete quello con il garage gigantesco Da 90 spazi, veicoli, bla 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 Non so quanto costa Credo che quello costi 4 milioni Eh, ci hanno proprio detto che è fighissimo Puoi andare a rubare le macchine Lo so, lo so, ho visto dei video Però non so neanche io quanto costeranno Questi sono i 4 uffici che vengono venduti nella città Credo che non esistano anche nella nostra zona Vero o no? Palito Bay non ci vendono nessun ufficio Questo è razzismo Ma andiamo... Dobbiamo spammare alla Rockstar Per far aprire un ufficio anche a Palito Bay Perché noi siamo i re di Palito Bay E qualcuno ce lo deve riconoscere E pretendiamo un ufficio Pretendiamo l'ufficio lì a Palito Bay Comunque, va Fino ad allora Vediamo quelli che abbiamo disponibili Allora, questo qui 3 milioni, no? Grazie 1 milione Ok, può andar bene 2 milioni e 2, no? Grazie E 4 milioni, no? Grazie Questo è sicuramente quello con le macchine, vero? Eh, penso di sì Comunque non abbiamo molta scelta Non abbiamo molta scelta Potremmo prendere, mi sembra giustissimo Che meraviglia Aspetta che metto il tuo schermo Che voglio vedere un pochettino Cosa tutto ci propone Ma guarda che ufficio che mi sto comprando No, vabbè, è bello, eh Bello, bello Extra lusso Sarà bellissimo lavorare lì Ok, no, non posso cambiare i colori Che mi aumenta roba da 800 mila Teniamoci uno marrone Marrone Va bene di questo colore È il mio preferito Perfetto, è il migliore Il mio colore preferito Sì, sì, sì Poi No Posso scegliere il personale Se avere un uomo o una donna Bellissimo Chi prendo? Cambia qualcosa? Donna, donna Così avrò una migliore amica Ci sta Nei crimini Allora Bello questo nome Organizzazione Come lo chiamiamo? Non ci avevo pensato al nome Non ci avevo pensato Sì, invece Ce l'ha consigliato un consolino Nei commenti Sì, ed è Two players, one office Bellissimo Fantastico Quindi due player Un ufficio Non so se ci sta Però spero di sì Allora, aspetta Aspetta, aspetta E se metti Due Due Players One Office Yes Ci abbiamo fatto a farcelo stare bellissimo 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 Guarda che meraviglia Non è terribile Si capisce bene Però noi sappiamo cosa vuol dire Quindi Esatto Magari con un altro font Questo mi piace No, che figo Praticamente il tuo appartamento Sì Che figata 800 mila Non fa Magari sono cose che aggiungeremo Purtroppo Rifiuto e vado avanti Per ora Non ce la possiamo permettere Allora A questo punto abbiamo speso un milione E possiamo anche acquistare il garage Quanti posti ha 20 Portando la 40 Diventa 850 Vabbè Comunque Facciamo finta che non ci sia anche livello 2 Livello 3 Il primo livello è un milione Cento mila Che ci esce con i soldi appunto Che abbiamo Quello sì Sì scusa Abbiamo a disposizione un milione No Abbiamo già pagato un milione L'ufficio Questi sarebbero un altro milione No ma sei matto Eh Cara mia Quale cose costano Cioè io avevo Non c'è nulla di gratis Pensavo che fossero 150 mila aggiunti Anche perché Per un garage così tutto rotto Dalla prima Ho detto 150 mila mi sembrano più Più che giusti Non è che deve costare così Oh guarda C'è lo sconto Wow Allora questo Guarda No dai Lasciamo perdere Sono tutte cose che Che metteremo piano piano In prima persona È meraviglioso Da guardare È gigantesco Ovviamente credo che abbiamo Solo un piano di questo posto E beh sicuramente Però comunque c'è il nostro super ufficio Andiamo Arriva Non ti apro Mi devi aprire Assumimi Entra con amici e compagni Per ora ancora non ti ho assunto Guarda non ci devi provare Che ti do fuoco all'ufficio Qual è il tuo curriculum? Dimmi Che ti do fuoco all'ufficio Se non mi assumi L'ho già detto Alla tua segretaria L'ho minacciata di morte Ok? Va bene Abbiamo anche il bar Per bere E riposarci Il divanetto Con tutte le cose È proprio un ufficio Proprio di quelli Capito? Super di lusso Sì Dei dirigenti più importanti Della società Questa è la mappa Della città Della città Non vado l'ora di vedere tutto La segretaria Essendo una segretaria Non la dobbiamo mai ascoltare È una regola che c'è nel gioco Tu non ascolti la segretaria Funziona così Quindi mi raccomando Continua a ignorarla Esatto Ci sta spiegando cose fondamentali Noi non leggiamo Non ascoltiamo Noi non la stiamo ascoltando E si esplode l'ufficio Però va tutto bene E sono pronta in sera a lavorare Ti sei accomodata? Sì Sì Ti stavo aspettando Perché ci stai mettendo una vita Che sei per imbracciaconserte Non fa vederti Aspetta Posso anche cambiare posizione È un'aria minacciosa Vai Vediamo la tua nuova posizione Ancora più minacciosa Ok Scusami Questo è nel senso Sei di fretta vero? Esatto Ok Adesso ti stai annoiando Esatto Giustissimo Allora si alzi per favore Questa è la postazione Dove abbiamo il computer Qui abbiamo il nostro bellissimo Bar personale Dove farci i peggio drink Guarda quanta roba c'è Per fare i drink Puoi fare proprio i cocktail Incredibili Stai già bevendo Sì E devo assaggiare Se sono buoni questi Capito? Certo Se non me la prendo Con la segretaria Capito? Era indispensabile Esatto Buonissimo sto whisky Buonissimo Sì Mi fa schifo il whisky Però boh Buono Buono Praticamente Qua Questa porta è quella Per l'alloggio Quindi se io comprassi L'alloggio Potrei andare lì E ci sarebbe la mia casa Ah ok Perfetto Figata Poi qui abbiamo tutta la zona di Vanetto Con una tv gigantesca Vabbè E qui l'ufficio dove pianificare Proprio le cose malvagie Vedi Noi abbiamo comprato questo bellissimo ufficio Sembra super di lusso Super figo Super cool Ok Però la realtà delle cose È che siamo poveri È che siamo poveri Ok E non possiamo fare un accidente di nulla Perché noi andiamo qua Che da qui ovviamente organizziamo Tutta la nostra attività Ok E abbiamo tre possibilità Possiamo Guarda che bello Numutente Steffi il magnifico Carico speciale Esportazione veicoli Missioni veicoli speciali Carico speciale Ti serve un magazzino E lo devi comprare Esportazione veicolo Ti serve un garage E lo devi comprare Missioni veicoli speciali Devi fare abbastanza Missioni di esportazione veicoli Quindi L'unica cosa Che un minimo Forse ci possiamo permettere È il garage Non possiamo fare nulla Allora Vediamo un pochettino Ho impostato quelli piccoli Quindi i più brutti di tutti 300.000 250.000 Forse ce lo possiamo permettere Vediamo Sì è quello che costa meno Guarda che figata L'assistente ci ha lasciato La moto qui Ok Io ho selezionato che veicolo Per farmi portare E ce l'ha lasciato qua fuori Perfetto E ci ha pure dato le coordinate Di dove dobbiamo andare A recuperare la match Oh perfetto 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 Dobbiamo portare al magazzino Che ci siamo comprati Un sacco di roba Questo inizio episodio È una roba incredibile Sì troppe cose C'è l'ufficio Il magazzino L'assistente Ferinichi segretaria Un sacco di roba No sono associato Un associato è diverso Da un segretario Un associato è una persona importante Se lo dici tu Mi fido Allora Non ti faccio andare a vedere Non fare nulla Non sparare Sparo in testa a te Non me ne frega niente Delle merci Ti faccio fallire Attenta c'è gente da sparare Chi? Tutti Aspetta Con la mia arma dorata Anche dietro di noi? Ok tu pensa a quelli dietro Io penso a quelli davanti Esatto li ho uccisi Aspetta ne stanno arrivando altri Fa attenzione Sì Prova a salire sul furgone Arrivo Tanto la merce è qui Ce la portiamo via Sì 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 Ci stanno sparando tantissimo Andiamo in retromarcia Lascio la moto qui Scusa mia moto Li sono passato sopra Poverina No No ma questo qua C'è un furgone improponibile È quello di prima Ci sparo Ci sparo Non li posso sparare Sono blindati Ci hanno ucciso Però teoricamente adesso Devono prendersi il carico Perché se devono prendere il carico Voglio vederli fuori da quel furgoncino Cosa fanno Che gli sparo proprio Io arrivo già armata Il carico speciale è stato distrutto Wow Wow Porta la merce Armi e munizioni Al magazzino Questa volta ce la possiamo fare E io non ci sono Ferrenichi mi ha abbandonato Perché non avendo No non è che ti ho abbandonato Non mi ha invitato Quindi io non posso salire nel carico Giustamente Non posso salire nel veicolo E quindi mi ha abbandonato Da una parte E lasciato da sola Sono tristissima Tristissima Arrivano in due Ti stanno chiudendo Sto buttando granate A profusione ovunque Te lo dico Attento Attento Corri 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 No è più veloce di me È più veloce di me È più veloce di me Lo noto Lo noto Lo noto Non è messo bene di vita Lo stai sparando No mi vuole far esplodere L'hai fatto esplodere Oh mio dio Oh mio dio Oh mio dio Vai dritto Aspetta devo richiamare Lester Anche se ho già tolto la pulizia una volta Quindi mi sa che non posso di nuovo No secondo me non lo puoi rifare Oh yes Oh andata Veicolo con carico speciale consegnato Che bravo che sono Solo questa Devi fare una Devi fare un'altra adesso No credo che Facciamo quello che vogliamo Quanto vogliamo Praticamente ci hanno detto Che noi questo magazzino Ok Più li riforniamo E più volte vendiamo la merce Più inizia ad avere valore 22.000 Vendendole A A me A me European partners Ok Vai Vendiamo volentieri E ci siamo fatti 22.000 E' finito così Le vendi? Non devi andare a venderle Oppure si E' quello Spero di averle vendute Se è che Vendita Sali sull'aereo Te l'ho detto Che tanto qua non ti regala Nessuno dei soldi Mi dispiace per te Mi dispiace per te Ho presentimento Che la nostra merce Esploderà E i nostri guadagni Da 20.000 Diventeranno zero Il carico speciale Di 2 players O 1 office Era visibile a tutti i giocatori Nella sessione Ovviamente Come sempre Le cose sono uguali Al motorcycle Quindi Sempre cose del genere Una cosa voglio capire Secondo loro Io devo atterrare Tre volte Perché sono tre consegne diverse Ho notato Sì 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 Ti tocca Cioè non solo Devo stare attento A non farmi esplodere Dalle persone Ma devo pure Atterrare E quindi non esplodere Da solo Esatto Dai guarda Non si regge in piedi Questo elicotterino Sì premi il tasso Backspace Ok Fatto Ok Ok andiamo alla prossima Perfetto 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 Ah meno male Molto meglio Almeno a terri una volta sola Esatto Lo vedi è segnato con questo fumaggiano rosso È bellissimo Bellissimo Allora concentrati Sono pronto a cliccare il tasto Tre Due Uno Vai Carico speciale per voi Eccoci Eccoci Dateci anche l'ultimo Ok è consegnato il carico speciale 26.000 E 400 Eh è visto quanta esperienza ha trovato Ti è salita tantissimo la barra No no Sì ma neanche un livello Dai Non cercare Di rendere 26.400 Piacevole questa missione Vediamo Sentiamo quali c'è l'assistente Finalmente siamo in affari È vero Sono d'accordo Eh non ne avevamo fatta manca mezza Per fare grosse vendite E tanti soldi Ci servirà molta merce Più merce abbiamo Migliori saranno i prezzi di mercato Così è stata Resa grande l'America Alla nostra Ci sta spiegando Quindi si vedi Mammono che vai avanti Mammono che prendi più merce Guadagni anche di più E diciamo che qua hai guadagnato poco Perché era la prima missione Quindi secondo me Poi piano piano Arriveremo davvero a fare Non so dove atterrare Mi dai una mano Da qualche parte Dove Sai che cosa dobbiamo vendere? Dimmi L'ingotti d'oro Wow Ne ho comprato tre casse Per 18.000 dollari E vabbè Ho investito un sacco Ho investito un sacco Per intenderci No 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 Stanno arrivando dei player Ti prego di già No Non solo dobbiamo andare in giro in barca Ma sta pure piovendo Guarda Andiamo in barca Che poi è un gommone Ole Mi sono lanciata proprio Anche io Dritta dritta Ho un problema Ma io sono atterrato in piedi sulla barca Che problemi hai? Non mi ricordo come risalire Sto affogando Il tasto posto Sto affogando Ma ti prego Dai sali su Oh Sono morto Che persona terribile che sei Io te lo dico Come puoi morire così? E i tasti fanno schifo Cioè sei una vergogna Su GTA per PC Non è colpa mia Ok Il gommone si sta muovendo da sola Aiutami No Come lo fermo? Guarda il tuffo da Baywatch Guardami eh Arriva Fereniki E mo non sai più risalire Esatto Per quello Così sono morto prima Opla Vai sediti anche tu Che se no voli via Andiamo col gommoncino A prendere lingotti d'oro C'è bisogno di cantare Dobbiamo sterminare Per forza Sei proprio sicura? Un equipaggio C'è una mare giata terribile Mi ricorda Strededip Guarda questo momento Ho paura che arrivi uno squalo Da un momento all'altro Ma quanti sono? Eh vabbè No 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 Aspetta aspetta Con calma Come dovremmo fare? Ok non l'ho ammazzato Io sto continuando a sparare Cioè se tu rimani abbastanza vicino Io sparo Fammi mangiare un po' di snack Che sono bassissimo di vita Spara Spara Ok un altro uccidio Ma quante onde ci sono? Dai è impossibile Aspetta Lì a destra ce ne sono ancora Poi si abbassano Ho capito? E' quello il problema Adesso dove sono finiti? Provo Vai Metto una granata Meglio che torni in acqua Vero? Sì Ma è andata 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 Vedi 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 Ci sono le merce di lingotti in acqua Recuperali Uno l'ho preso Allora L'abilità del boss Fantasma può essere usata per un secondo Nei carichi speciali ad altri giocatori in attenzione per un periodo limitato E come faccio a farla? Non lo so Prova 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 Allora Seo Abilità seo Organizzazione fantasma Sì 12 mila dollari Invece sono tutti in città nelle zone belle Esatto Andata No anche perché infatti l'assistente ci ha detto che più merce abbiamo più guadagniamo Quindi proviamo a fare proprio una consegna Una vendita epica Esatto Si chiamerà così Bellissimo Ok Ci siamo dimenticati di fare il tatuaggio E siamo tornati in questo posto Aspetta devo fare il mio scherzetto solito Cash is king Nel collo Diventa Il peggio di Unforgiva Guarda Molto peggio Secondo me diventa il tatuaggio più brutto che abbiamo mai fatto ufficialmente Sì Che sarebbe Cioè spieghiamo anche la traduzione Tipo i soldi sono la cosa più figa Beh se king sarebbe re Però secondo me lo interpreterei come I soldi sono tutto Eh esatto Secondo me La traduzione più figa che gli possiamo dare è questa Contando che abbiamo appena aperto un ufficio super di lusso Ci sta la grande Quindi Dimmi che non si vede E invece si vede Che cosa terribile Beh ragazzi ragazzi Così ci sono giusto Sentici un bel like E se la prima volta che avete detto il nostro video Potete considerare l'idea di iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao E alla prossima Ciao 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 Grazie a tutti.